Si mette ancora peggio, 91 punti per la Rarinante, 81 e mezzo per l'ISPRA, rispettivamente penultima, ultima, il terzo ultimo posto, 122 punti del Forum Sport Center, ancora non è a distanza utile, zona mista. Cioè Magnini ha portato punti alla Larus e in una gara controllata, dove tu, naturalmente, l'ultima vasca, hai avuto, hai voluto avere la meglio. Sì, allora, prima di partire, mi ha detto Ben Carelli che devo fare il capitano, farlo vedere qui, e quindi un bel peso sopra le spalle. Poi una bella scommessa, dai, se fai il numero, forse ti facciamo saltare a spoleto, ma me l'ha detto giusto per fregarmi, e oggi molto bene, perché veramente ho fatto 150 metri proprio tranquillo. Sono arrivato alla virata, avevo energia e poi ho spinto, quindi pensavo anche di aver fatto un tempo molto più alto, invece ho notato quasi mezzo secondo, insomma, più della finale dei sette colli, ma reagendo molto bene. Questa vittoria di ieri è stata benzina importantissima. Probabilmente avresti fatto comunque tutto bene, perché sei in un buon stato di forma, però, insomma, è veramente benzina importante. No, no, serve, serve. È servito moltissimo, è servito tutto il contorno che ho avuto ieri sera, che ho avuto comunque questa mattina, il cellulare che spillava, pieno di messaggi, dei miei amici che mi sono i complimenti, quindi è servito tutto. Sono molto contento, veramente. Perché lavorare, si continua a lavorare duro, però quando non si vedono i risultati è difficile, è più difficile. Ovviamente a un atleta il risultato serve, quindi quello di ieri mi darà la carica per allenarmi sicuramente i prossimi mesi in vista dei mondiali. Grazie.